È indagato per omicidio stradale, l'uomo che ieri mattina ha investito Riccardo Giorgi, 39enne di Terracina, che si stava allenando in sella la sua bicicletta sulla Migliara 51, frazione La Cotarda, nel comune di Pontinia. L'uomo, al volante dell'auto, un trentenne residente nel comune in provincia di Latina, ha risultato positivo alla cocaina e alle benzo di azepine. Sul decesso è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Latina. La vittima era un tecnico radiologo con due figli piccoli, amava lo sport e da tempo gareggiava nel triathlon. È stato travolto da una Ford Kuga che sopraggiungeva dalla parte opposta. Dopo l'impatto, il ciclista è finito diversi metri più in là, all'interno di un campo al lato della strada ed anche la macchina è uscita dalla sede stradale. Sul posto sono subito giunti i soccorsi, con i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.